Ciao, benvenuto nella mia campagna di crowdfunding. Sono Andrea Ferrari, ho 27 anni e vivo in Madagascar. In questo 2021 appena passato ho avuto modo di toccare con mano e di comprendere quello che veramente vorrei fosse il mio futuro. Immortalare non solo le meraviglie del mondo e degli oceani, ma anche e soprattutto le sue ingiustizie, quelle lontane dalla vista di tutti. Per fare ciò ho però bisogno del vostro aiuto ed è per questo che ho deciso di aprire questa campagna di crowdfunding per raggiungere il primo obiettivo della mia carriera, avere l'attrezzatura necessaria per filmare e fotografare al meglio sopra ma in particolare sotto l'acqua. Non sono avvezzo a chiedere aiuto, soprattutto economicamente, ma in questo caso ogni donazione o anche solo la condivisione di questa campagna di crowdfunding può fare la differenza ed aiutarmi nella realizzazione di questo mio progetto. Supportarmi è semplice, basta cliccare su fai una donazione in questa pagina e condividere questa campagna con più persone possibile. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore, un abbraccio, ciao!